Ciao a tutti, sono Matteo e ho 25 anni. Lavoro in un'azienda che produce guarnizioni e mi occupo dello sviluppo di nuovi prodotti. Come sono arrivato qui? Con un diploma ETS in tecnologia degli elastomeri del Peter Frey, aria biotecnologie. I corsi ETS sono importantissimi e soprattutto super validi per chi vuole trovare fin da subito un lavoro e mettersi in gioco. Grazie a tutti.